C'è chi dice abbia più di 800 anni. I vigili del fuoco e l'agronomo Andrea Maroe, responsabile per il fiore di Venezia Giulia delle piante monumentali, stanno lottando per salvare la vita alla quercia secolare di Villanova Sant'Antonio a Fossalta di Porto Gruaro, colpita da un fulmine alle 8 e 30 del mattino. La potente scarica elettrica ha investito la gigantesca farnia provocando un incendio nella parte cava del tronco. Per arrivare al focolaio principale, non raggiungibile con le attrezzature ordinarie, i pompieri hanno dovuto utilizzare la sonda ad alta pressione di un camion messa a disposizione da una ditta privata di Espurghi. Le operazioni di completo spegnimento e messe in sicurezza della pianta sono terminate dopo circa tre ore. Con i suoi 15 metri di altezza e 7,5 di diametro, la quercia è tra le 5 più grandi d'Italia ed è stata dichiarata monumento nazionale dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Da sempre considerata simbolo di Fossalta, il primo documento che ne attesta la presenza risale al 1586, ma gli esperti sono concordi nel ritenerla ancora più antica. È sopravvissuta a secoli di guerre e saccheggi, ma stavolta potrebbe non farcela. L'intervento per consentirle di continuare a germogliare è ancora in corso e il risultato è tutt'altro che certo. Nelle scorse settimane l'amministrazione comunale aveva attivato un intervento per salvarla da un parassita che la stava lentamente consumando.